Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti nel mio nuovo video! Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno! Allora, io non ne ho mai abbastanza di unboxing e dopo quello di Avon, stavolta abbiamo un nuovo unboxing. Però questa volta si tratta dei miei prodottini preferiti che sto utilizzando, ovvero i prodotti della Fitline. E se non sapete di cosa sto parlando e se non avete visto il video precedente, vi lascio la bandella qua in alto, perché sono prodotti super eccezionali e vi spiego più nel dettaglio, insomma, nel video precedente. Allora, vediamo i prodotti che vi devo mostrare oggi. Questa è la mia bella scatolona e andiamo immediatamente ad aprirla, anche perché non ve l'ho ora. Ok? Allora, il primo prodotto che vi mostro e di cui vi ho già parlato è il Basic. Ebbene sì, perché ovviamente è passato un mese e vi ricordo che il pacco contiene 30 bustine di Basic che io prendo tutte le mattine. Potete prenderlo o prima della colazione o durante la colazione sostanzialmente. Non vi sto di nuovo a spiegare che cos'è basica, cosa serve e quant'altro, però in ogni caso vi ricordo che ne parlo anche su Instagram, quindi se non lo fate seguitemi anche lì. Allora ragazzi, vi dico solo che da quando ho iniziato il percorso con Fitline di nuovo, quindi con i miei prodottini, nel giro di un mese ho perso ben 5 kg e un sacco di centimetri. Quindi sono super contenta e ovviamente il percorso va avanti, continua. Infatti anche le mie braccia sono più piccoline, la mia vita è più piccolina, insomma ho perso non solo peso ma anche tanti centimetri. Quindi Basic, poi ho ripreso il mio amatissimo ProShape. Vi ricordo che il ProShape è un passo completo, quindi andiamo a sostituire sì un passo, che sia il pranzo o la cena o entrambi, con questo beverone. Stavolta però non l'ho preso al cioccolato, ma l'ho preso alla vaniglia ed è super super buono. Allora, questo non l'ho ancora mai provato, però sono sicura che sarà spettacolare come quello al cioccolato, così come quelle frutti di bosco che ho presi due anni fa, sì, nel 2019, e sono tutti buonissimi. Questo appunto, brevemente vi dico che potete sostituire o pranzo o cena, o solo pranzo o solo cena, l'importante è sostituire un pasto al giorno. Ci sono 13 pasti, quindi, dunque, io lo prendo una volta al giorno, quindi mi dura 13 giorni, e già solo prendendo questo, ragazzi, vi sgonfiate in una maniera incredibile, senza comunque andare a rinunciare a tutti i nutrienti che si bisognerebbe assumere nell'arco della giornata, perché contiene veramente tutto. E vi ricordo che sono assolutamente integratori naturali, che non fanno male, assolutamente, ma anziché ci aiutano nel nostro benessere quotidiano. Poi, cos'altro ho preso? Ragazzi, questo è un miracolo, è la mia, non so come dire, la mia mano dal cielo, il mio tocco magico, chiamatelo come volete. Allora, se vi ricordate, nel video precedente, avevo preso le capsule cicicelle, quelle capsule, quelle pastiglie, che ti fanno dire, bye bye cellulite, addio! Esattamente. Però vi avevo anche detto che io le avrei assunte utilizzando la somatoline. Però in realtà, ragazzi, a parte il fatto che la cellulite mi è migliorata tantissimo, assolutamente, solo prendendo appunto le capsule della Fitline, le cicicelle, che vi ricordo la scatola contiene 60 compresse, bisognerebbe prenderne due al giorno, mattina e sera, però funzionano ancora meglio, sono ancora più ottimali, se assunte, insieme a questa lozione, la lozione cicicelle, che agisce all'esterno. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo ad eliminare la buccia d'arancia? Assolutamente sì! Vuol dire che andiamo a levigare la pelle? Assolutamente sì! Quindi la combinazione delle capsule più la lozione, 100%, la cellulite proprio non la vedete più. Ovviamente i risultati non si vedranno dopo due o tre giorni, ma si vedranno con l'assunzione magari già dopo due settimane, dopo tre settimane, ma vi assicuro che nel giro di un mese, ragazzi, la differenza la notate. Io quello che consiglio sempre, che è quello che faccio anch'io, quando decidete di iniziare questo percorso, fatevi le foto prima e fatevi le foto dopo, o anche durante, se volete. Idem per quanto riguarda le misure. Le misure sono importantissime, perché là dove magari c'è una perdita di peso di qualche chilo, quindi non un peso eccessivo, come giusto che sia, sui centimetri, ragazzi, invece, vediamo tantissimo la differenza. Quindi, cosa intendo per misure? Circonferenza braccia, circonferenza seno per le donne, la circonferenza della vita, la circonferenza dei fianchi, dell'interno coscia e della coscia. E vi assicuro che già solo prendendo queste misure, vi accorgerete della differenza, vi accorgerete proprio di quanti centimetri andate a perdere, utilizzando non solo questi prodotti, io ve lo ricordo. L'ideale sarebbe anche, ovviamente, sempre, in qualsiasi caso, fare comunque una sana alimentazione, più l'attività fisica. Però, vi ricordo anche che io, due anni fa, assunti questi prodotti, senza fare attività fisica, perché lavoravo, non potevo, però in ogni caso, hanno agito in una maniera eccellente. Quindi, anche se io vi consiglio, di utilizzare questi prodotti, ovviamente, non sono un medico, quindi, prima di assumere, qualsiasi tipo di prodotto, dimagrante, per così dire, anche se comunque miracoli non esistono, però, in ogni caso, qualsiasi tipo di prodotto, qualsiasi tipo di integratore, prima di prenderlo, mi raccomando, rivolgetevi al vostro medico curante, cosa importantissima. Però, vi ricordo anche, e ci tengo a sottolineare, che i prodotti della Fitline, possono prenderli, davvero, davvero tutti, proprio perché sono integratori alimentari, quindi, possono prenderli i bambini, possono prenderli gli anziani, possono prenderli le donne incinte, le donne che stanno allattando, tutti, 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 possono prendere davvero questi prodotti. ovviamente, se ci sono dei problemi di salute, un po' particolari, come vi dico sempre, rivolgetevi al medico, per chiedere, sempre per sicurezza, però, in ogni caso, questi prodotti, davvero, li possono prendere tutti. Ma, torniamo alla mia cremina, che non vedo assolutamente, non vedo assolutissimamente l'ora di provare, sono super elettrizzata, e infatti, io mi sono tenuta, alcune capsule, proprio per questo, perché, voglio vedere la differenza, tra le capsule prese, singolarmente, le capsule prese, in abbinamento alla lozione, e io sono, super emozionata, l'idea di non vedere più la mia cellulite, e ragazzi, metterò poi i risultati, anche ovviamente su, Instagram. Poi, tolta la valanga di carta, che adesso noi buttiamo, un attimo da terra, eccolo qua, ho ripreso, il mio, Restraid, esattamente, l'ho terminato, anche qui, di questo prodotto, ve ne parlo nel video precedente, Activize, non l'ho preso, perché se vi ricordate, me ne hanno arrivate due scatole, una che avevo acquistato io, e una in omaggio, quindi sono apposta ancora per un bel po', però di Restraid, non avevo davvero più, e vi dico, e vi ricordo, anche questo, che io, da quando assumo Restraid, faccio delle dormite, profonde, lunghissime, dormo super, super bene, mi addormento, e mi sveglio la mattina. Sembrano passati, cinque secondi, ma non solo, quando ho mal di testa, che molto spesso, mi capita di arrivare la sera, con il mal di testa, o perché sono stata troppo al computer, o perché ho guardato troppo la tv, o, cosa molto più comune, perché non ho indossato gli occhiali da riposo, perché sì, io vi ricordo che indosso anche gli occhiali da riposo, mi sale il mal di testa allucinante, e questo prodottino qua, mi aiuta ad alleviarlo, assolutamente, quindi non posso proprio farne a meno. Quindi, in questo, unboxing di Fitline, ho preso questi, ehm, quattro, prodottini qui, super super validi, e di cui non posso veramente farne a meno. Ripeto, se volete sapere qualche cosa in più, in base a questi prodottini, andate, sicuramente a vedere il mio vecchio video, il mio primo video della Fitline, dove vi spiego ogni cosa, secondo, se avete qualche dubbio, domanda, o me lo scrivete giù sotto nei commenti, oppure, se vi fa piacere, mi iscrivete in direct su Instagram, così che io possa essere il più che era possibile, ed eventualmente consigliarvi anche il prodotto giusto per voi, perché vi ricordo che, Fitline non è solamente una gamma di prodotti, eh, volte al dimagrimento della persona, ma si occupa a 360 gradi, della cura della persona, dalla perdita di capelli, che ragazzi, i risultati sono pazzeschi, a parte il fatto che, magari, chi soffre di calvizia, assume il prodotto appunto apposta, per i capelli, ha una ricrescita pazzesca, ci sono prodotti che rendono i capelli, le unghie, molto più forti, ci sono prodotti, per, proprio, per, ad esempio, chi soffre tanto di acne, di brufoli, eh, si chiama Beauty, ed è formidabile, cioè, veramente, benessere a 360 gradi, oppure, chi soffre di dolori, nelle articolazioni, per esempio, esiste un prodotto, un integratore apposta, per alleviare, quei dolori, dalle articolazioni, oppure, chi soffre di bene e varie cose, come mia mamma, esiste anche un prodotto, per le bene e varie cose, esattamente, quindi, qualsiasi, ma proprio qualsiasi prodotto, voi pensiate, esista, grazie a Fitline, ma in ogni caso, giù sotto nell'info box, io vi lascio il link, dello shop di Fitline, dove voi potete andare sul sito, sullo shop Fitline, vedere tutti i prodotti, che la gamma Fitline, ovviamente, propone, scegliere quello che più vi fia piacere, e non solo, ragazzi, se diventate clienti, questo forse non ve l'ho detto, ma se diventate clienti, vi registrate come clienti, avete diritto anche al 20% di sconto, sui prodottini, e perché no, perché non iniziare a guadagnare, anche voi, un extra, a fine mese, grazie a questi prodotti, io ve lo consiglio, e vi consiglio di prenderli, soprattutto, perché li ho testati, li sto testando su me stessa, e funzionano, se no, se fossero prodotti, che è giusto per far spendere soldi alla gente, non ve ne parlerei nemmeno, detto questo ragazzi, il loro video di oggi finisce qui, sono contentissima, e soprattutto ragazzi, sono contenta di aver perso, sti centimetri, e sti 5 kg, un sacco, davvero, quindi spero di riperderli, altri tanti questo mese, quindi grazie al mio fornimento, grazie alla Fitline, il mio corpo, sicuramente sta molto meglio, detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, lasciate un like, se il video vi è piaciuto, lasciate un commentino, perché voglio sapere, se siete curiosi di sapere, o di scoprire, altri prodotti, e se li avete già provati, io vi lancio, un bacione grandissimo, ciao a tutti!